Ciao a tutti da SVIDEO! Allora, sono qui per comunicarvi che domenica 24 maggio, alle ore 11, Bologna, stazione centrale, ci sarà una specie di raduno, sì, con i miei iscritti, ma non solo con me. Con me ci sarà EV115! E quindi... BAM! Bella, ragazzi, sono EV. Ci sarà... Gianji! Il professor SVIDEOGAME74 colpisce ancora, ragazzi. E non chiedetemi come faccio a starmi la bacchetta della batteria dietro l'orecchio, perché mi si sta per rompere la cartilagine. Ci sarà... BADICIO SCHET! VIDEOGAME74, ti saluto tantissimo, mi raccomando, andate, iscrivetevi nel suo canale, è veramente una persona simpaticissima, l'ho già detto in miliardi di volte, ma continuerò sempre a ripetervelo. Mica, che bello figlio! Saremo lì a aspettare iscritti dei nostri rispettivi canali, ovviamente, iscritti. Sarebbe bello riuscire a coinvolgere qualcuno, io so che primo raduno difficilmente arriverà molta gente. Però starà lo stesso, divertentissimo. Io conoscerò dal vivo questi ragazzi come Gianji e Malicious Cat, EV115. Ho già avuto modo di conoscerlo, ma è sempre stupendo rincontrarlo sempre. E quindi, niente. Chi vuole essere della partita? Chi vuole essere... Chi vuole venire a trovarci, a conoscerci, eccetera. Anche perché io porterò uno zaino con gadget, cose varie, magari sarà una cosa simpatica. Adesso bisogna vedere quanta gente ci sarà. Però pensavo anche di fare una specie di contest dal vivo con dei premi, eccetera. Però tutto questo è da valutare sul momento, perché sarà una cosa molto improvvisata. Però piacerebbe davvero che ci fosse un po' di gente, almeno di quelli che mi seguono. Lo so che un posto non può andare bene a tutti, ma ci saranno altri eventi tipo questo. E ripeto, per me sarà sempre stupendo e uguale, perché alla fine mi divertirò. Anche se siamo pochi, sarà stupendo, bellissimo, sarà una giornata meravigliosa. Domenica 24 maggio, ore 11, Bologna, Stazione Centrale. Ciao da Svidea! Ciao da Svidea!